questa mattina per motivi di mare mosso come potete vedere dovevamo uscire in kayak con con chi fa anche teatro ma purtroppo il mare non ce l'ha permesso e quindi loro stessi mi hanno detto no ciccio noi vogliamo lo stesso contribuire allora ho pensato bene di venire qui alla speggia praiola guardate c'è di tutto ma mi chiedo più che altro questi sacchi quando è che li vengono a prendere la mia paura è quella che una forte mareggiata possa venire a prenderseli ragazzi scusate ricordatevi i vostri nomi quindi abbiamo noi a marco feo e santo ninnella daniela cupella ok il direttore del nuovo teatro orio allora e tu invece io recito a 360 gradi ma tu sei anche se anche un abitante di terrasina tanti anni della bellissima costa di terrasina sul lungomare cerco di fare il possibile per renderla va bene allora noi puliamo perché ce n'è da pulire guardate plastica e microplastica ce n'è tantissimo va bene al prossimo video della fraiola che voglio dire cioè ragazzi guardate basta muovere guardate cosa spunta cioè guardate vediamo muove anche lì vediamo che succede vediamo la soffresa wow wow guardate ammazziamoci con la fly venga guardate ragazzi una miniera abbiamo trovato guardate aiaiaiaiai siamo spiaggia praiola oggi 8 settembre dovevamo uscire in kayak con con i ragazzi del teatro di palermo maimè non ce l'ha permesso il mare tu vuoi dire qualcosa in questo video con chi ormai non ce n'è più ma è più con chi e guardate non esiste più conchiglie grande marco a colpo d'occhio naturalmente a colpo d'occhio che le spiagge purtroppo non saranno mai più pulite perché guardate c'è microplastica ovunque guardate questa è tutta microplastica quello che voi vedete bianco e microplastica però a colpo d'occhio gli abbiamo dato una una pulita qui siamo alla spiaggia la praiola oggi è 8 di settembre 2019 abbiamo fatto un bel po di sacchi buongiorno buongiorno volete dire qualcosa che l'ho trovata vuota e non è giusto dopo tanta fatica avrei preferito comunque si fa questo bravo facile bravissima tu marco vuoi dire qualcosa ci sono troppe a parte troppo plastica che sappiamo quanti migliaia di anni ci vogliono e poi per i fumatori le cicchie di sigarette portatevele a casa perché c'è tutto sul lungomare una migliaia e migliaia di colsi buoni ma anche le spiagge sono pieni anche le spiagge tu vuoi dire qualcosa allora a parte a parte che questo è stato bellissimo farlo ma mi sta lasciando un angoscia incredibile bravo cioè io me ne torno a casa consapevole che tanto comunque nella vita tutto quello che facciamo ci torna indietro bravissima tutte le cose bravissima se buttate qualcosa a mare la ritrovate nella spiaggia ho levato una quantità di tappi bravissima pieno tappi di tutto c'è il pannolino sporco da poco secondo me i genitori perché i bambini ancora sono piccoli ma saranno loro che avranno questo questo pianeta responsabilizzateli non per quanto riguarda la spazzatura scusa posso dire che quando io ero piccola in spiaggia c'era solo la sabbia e le conchiglie ora c'è più mummizza che altro quindi ci siamo evoluti nel peggioro dei modi qualcuno magari ha fatto una serata pazza chi lo sa e anche se vedete la spiaggia pulita se prendete un legnetto e scavate per 10 minuti si non sarà mai pulita c'è trovata plastica ovunque si si qua c'è microplastica dappertutto microplastica quindi niente noi per oggi abbiamo finito abbiamo totalizzato uno due tre quattro cinque sacchi di spazzatura in quanto in in un'ora in un'ora in un'ora basta poco ma veramente basta poco Daniela Pupella teatro Sant'Eugenio Palermo Marco Feo ovunque di nuovo di nuovo Giuseppe Minnella nuovo teatro Vione va bene ragazzi io vi ringrazio Ciccio Kayak vi ringrazia vi salutiamo dalla bellissima ahimè spero che tornerà presto a splendere spiaggia Praiola Terrasini grazie a tutti 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 Grazie a tutti.